Riprendo il discorso di prima, era arrivato a questo punto, questo pinnacolo bello qui nel mezzo a un piattume, non si sapisce bene cosa sia, quale è risiduato di miliardi di anni molto probabilmente e ora siamo nel versante diciamo toscano per capirci, che qui riguarda tutte le montagne a noi molto più conosciute, si intravede Cecchetto, si intravedono le regine, si intravede tutto il mondo a noi noto, sullo sfondo si notano ancora i vecchi impianti del Pian di Novello, desueto, poi si vede qua, si vede la vallata del Sestaione, fino alle cime, la punta, la sella del Campolino, gira ancora, gira ancora e qui davanti abbiamo l'altro del 50% della dipartita del viaggio, l'Andrea. Arrivederci!